Vi saluto, come si dice a Cucione, se la media fosse a Guadara, Cucione, fosse in un paese guadaroso. L'altra settimana vi ho contato il greco che mi ha detto che c'è, un cognato di Ciccio, su perché ero che sta capitando all'ospedale, ma voi vi potete immaginare quanto persone mi hanno telefonato dicendo. Io vi ho detto niente, vi chiedete sempre contate le cose che vi dice a Ciccio, ma se sapeva che faceva un nome di Ciccio e parlavo all'ospedale, vi chiamava Dio e di sicuro vi informava meglio come ha fatto quello. Lo sa che sentire fare un nome proprio, un nome di Ciccio, fa sempre piacere, ma per me tutte le telefonate l'hanno fatte perché erano i genitori in media verso Ciccio. perché è fatto un nome, so, e subo il giornale, non solo a un giornale, ma pure alla televisione. Ma facciamo il discorso, se no ancora non sa poi piacere, e dopo pure c'è stata una notizia buona. E mi ha detto che Ciccio, la Diorna mi ha fatto un discorso che in principio mi ha proprio meravigliato. un me lo aspettava proprio, che pure una cosa normale, una cosa in ente, la faceva diventare uno discorso di filosofia, un discorso filosofico, proprio alla Ciccio. Ma come ha continuato, mi ha fatto capire che il problema suoi è sempre lo stesso, parlare contro chi è il centro-destra. Ma ora vi ho conto tutto il discorso, e vi rendete conto che ho ragione. Ciccio, ha cominciato così. A quel giorno, pensi che è picchissimo una popolazione che ha sempre sofferto, ed oramai siamo rassegnate per ogni cosa, pure che è che sta capitando e pesando a sopportare. O se fa dato cadere, ci vuole pazienza. Ancuno però, sentendo ripetere sempre questa parola, ha pensato che la gente chiama sempre dirlo. E tutti quanti che ripetano, e ci vuole pazienza. Ad avere pazienza, queste cose si possono superare solo con pazienza. Questa è tanta, tanta moda. Io direi, hanno fatto pensare al produttore pazienza, che la gente cerca sempre dirlo. Se no, si capisce perché tutti i giorni è subito il giornale. Pure quando facessi meglio, la stessa ricetta. Stanno chiudendo tutti i reparti di ospedale, fino a rinuncire poco più in un pronto soccorso, e dirlo, ne esce un articolo dicendo che non è davvero. Solo per difendere a Scopelletta. A Scopelletta ci ha dato una disegaranzia per certe cose quando era a Sinnaco. E pazienza, lo difenda. Hanno fatto una comparenza per dire i risultati in una ricerca su bimunneze, ed hanno detto commissariamente tutti i commissari sono stati in un fallimento, e dirlo per la buona Scopelletta. Come se avesse fatto anche una cosa per cacciare i commissari e risolvere il problema dei monneze. Siccome, Ciccio, quando si incacchia ad uno, una finiscia che io, maggiormente se si tratta ad uno di centro-destra, come vi diceva, è a me. Come sapete, sto modo di fare, o mi piace, ci ha detto, a te, in questo modo di parlare, ti avessero chiamare Vucchi Zuccro. Tu, come i labi, gli atti meli tutti parte, ma ti rendo conto che ogni parola è una cortedata. Ciccio, ma guardate, essa mi sa rire. E poi mi fa. Un sogno io, che mi avessero chiamare Vucchi Zuccro. Ma un dottor Pacenza, idro, gli atti meli, pure quando parla di Scopelletta, gli atti zuccro e meli tutti i parti. Io sogno sicuro che a tutti i grani che ha passato in tuo reparto, il tuo diabete, si ha cogliuto tutto il zucchero di malate per sospettare per Scopelletta. Vedendo che invece, da finire, stava a ripiare, a carcare la mano, ci ha detto, c'è, tu stai parlando contro che su merita. Questa è una brava persona, è un bravo medico. A questo punto Ciccio mi fa io stai dicendo il contrario che stai dicendo tu. Usaici che è una brava persona, che è un bravo medico. Stai solo dicendo che facessi meglio da finire e di finire sempre a Scopelletta. E che ha visto che si trova dalla regione, che pensassi non puoi più a questo giorno, a questo ospedale, a questo chiudesse. A questo lotto. grazie. Grazie.